L'opera nasce nel 2015 con la necessità di razionalizzare gli spazi dall'area demoniale. Erano presenti tre edifici degli anni 50, non a norma dal punto di vista sismico, non ben organizzati. Pertanto il progetto prevede la demolizione dei tre edifici, la realizzazione di una platea di circa 6.000 metri quadri. In elevazione poi una sola palazzina di quattro piani, dove praticamente al primo piano, piano terra, troveremo ancora la parte dei garage, poi la parte logistica con la sala operativa, le camerate, la mensa e la sala riunioni. Grazie a tutti!